Bella a tutti fornalletards, benvenuti sull'Euntube In questo video andiamo a fare la missione Friggi danni la mischia agli avversari Mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere le nostre notifiche Perché molto presto andremo a fare una live in cui andremo a regalare Voi, dei nostri spettatori, un codice per riscattare una skin Allora andiamo a fare questa missione degli incarichi Creed Dobbiamo prendere il piccone e iniziare a colpire il nostro avversario Così il piccone sono i danni da mischia Ora qui probabilmente abbiamo trovato il posto Ci sta sparando anche qualcun altro Qui ne abbiamo fatti 140 Cerchiamo di scappare un attimo perché Ok non ho nemmeno le cure Comunque avete visto come fare quella missione Se il video vi è piaciuto un bel mi piace Condividetelo con i vostri amici nei vostri social Non dimenticate di lasciare un commento E come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Non dimenticate di cliccare la campanella Per non perdere i nostri aggiornamenti Ciao a tutti